Ho ricevuto la prima dose del bacino, AstraZeneca naturalmente, e sono contento di essere entrato anch'io nel novero dei siciliani che si avviano verso la totale immunizzazione. Spero che questa mia idea, questa mia azione, possa essere condivisa da quanti si trovano nelle mie stesse condizioni. Stiamo combattendo battaglie durissime per abbassare l'età dei cittadini ammessi al bacino. Siamo finalmente arrivati anche nelle isole minori. Andiamo avanti perché dobbiamo uscire prima possibile da questo tunnel e sono convinto che ce la faremo.